Dal 2 luglio sarà possibile sottoscrivere la tariffa RC Auto Napoli Virtuosa, una polizza a prezzo speciale riservata ai cittadini napoletani. Questa mattina, giovedì 28, a Palazzo San Giacomo, è stata firmata l'intesa fra il Comune di Napoli e la compagnia britannica Conte.it, che assicurerà ai clienti certificati dal Comune il 20% di sconto rispetto ai prezzi base. Per essere ammessi alla tariffa Napoli Virtuosa bisogna essere in regola col pagamento della Tarsu del 2010 e accettare l'installazione di una scatola nera sulla propria auto, naturalmente senza aumento di spesa. In questo modo, secondo le stime effettuate sui prezzi di mercato, gli utenti conseguiranno risparmi sensibili anche rispetto alle tariffe minime registrate. Per esempio, una donna di 40 anni con un'auto di cilindrata media e un sinistro a carico pagherebbe con la tariffa Napoli Virtuosa 849 euro all'anno, circa la metà del prezzo medio di mercato e il 35% in meno del prezzo minimo rilevato a giugno. Chi si comporta correttamente nei confronti della propria comunità merita un trattamento migliore. Il Comune lo dimostra, quindi non chiacchiere ma fatti, lo dimostra con una convenzione che vale per quella maggioranza di napoletani che si comporta correttamente. Napoli nel 1994, l'ultimo anno di prezzi amministrati decisi dal Governo, si pagava esattamente quanto a Torino, meno che a Roma, meno che a Genova, meno che a Firenze, meno che a Bologna. A Torino i prezzi sono aumentati del 150%, a Napoli del 450%. Credo che riusciremo ad avere delle tariffe più accurate e riuscire a dare dei prezzi interessanti a cittadini che hanno anche un comportamento migliore e quindi risultati tecnici migliori anche per la società. Anche se questa non è una competenza del Comune, ha detto il Sindaco De Magistris, abbiamo ritenuto di impegnarci per questo tema caldo con un'iniziativa che non ha precedenti in Italia. È uno scandalo che a Napoli si paghino le tariffe assicurative più alte d'Italia, anche quando non si fa mai un sinistro e questo accade perché c'è un sistema criminale che ruota attorno ai falsi sinistri. Questo è un tentativo ben riuscito del Comune di Napoli, adesso bisognerebbe avvertire e sollecitare anche tutte le altre istituzioni perché questo poi diventa di fatto una possibilità per tutti i cittadini della Campania e non solo per i cittadini di Napoli. Il progetto RCA Napoli Virtuosa punta anche a indebolire il fenomeno dei falsi sinistri. I danni alle automobili saranno riparati in officine convenzionate, mentre il tracciato della scatola nera permetterà di difendersi efficacemente dalle frodi. Tutte le informazioni sulle polizze e sul progetto sono su www.comune.napoli.it.